Ci troviamo a Taranto, nella città vecchia, all'inizio di Via Duomo, in prossimità delle colonne doriche. Intanto vorrei esprimere il mio applauso a quei ragazzi che con l'Associazione Itaca hanno realizzato tanti murales. E proprio di questi parliamo. In particolar modo, questa opera d'arte che si trova qui, nelle vicinanze delle colonne doriche, la soprintendenza archeologica ha deciso che deve essere rimossa, che deve essere cancellata, perché a dire della soprintendenza non sarebbe compatibile con il contesto archeologico. Ma, signore della soprintendenza archeologica, ma stiamo parlando seriamente? Voi esprimete questo giudizio e io lo rispetto, per l'amor del cielo. Ma secondo voi il vero problema, il fastidio, il vulnus, il danno, il pugno allo stomaco che viene dato alla tutela archeologica, è uno di questi murales? E' questa opera d'arte rappresentante delle colonne doriche? Fatemi capire un pochettino. Pensate all'area in cui si trovano le colonne doriche, con reperti che ancora non sono stati riportati alla luce. Ci troviamo in una situazione di schifo, di erbacce e quant'altro, e la soprintendenza archeologica ritiene che questa opera sia così, non compatibile, crei quasi un danno d'immagine con tutto il contesto artistico, storico, archeologico. Ma di cosa stiamo parlando, signori della soprintendenza? Ma di cosa stiamo parlando? Ma vi rendete conto? Andiamo a vedere la pagliuzza e non la trave, perché lo schifo che sta qua sotto, tra erbacce e tra reperti archeologici che non sono stati riportati adeguatamente, valorizzati e riportati alla luce, voi a che cosa vi appigliate? Ai murales. Ma per cortesia, ci sono tanti problemi seri, molto più seri rispetto ai quali intervenire. Per esempio, in via d'Aquino, quasi angolo alla fine di via d'Aquino, quasi all'altezza con via Regina Margherita, in prossimità di un bar ci sono degli scavi, dei resti archeologici, non so se sono le mura annibali, che non so bene, ma di fatto, di fatto, non c'è una miseria di cartello che indichi adeguatamente, che spieghi di cosa si tratta. Allora, signori della soprintendenza, signor soprintendente, ricordate, lei lo conosce il latino? Spero, credo di sì. Summum ius, summa inuria. La legge portata ad un'applicazione esasperata diventa un'ingiustizia. Questo state facendo, perché voi potrete rifarvi a tutte le normative, a tutti i particolari, i peli e i contropeli, ma ditemi di grazie. Ma a chi dà fastidio quest'opera d'arte? Perché questi murali, se sono opere d'arte, a chi dà fastidio? È così bello camminare, passeggiare. Uno vede le colonne doriche, queste sono, mi pare, le porte murate dell'antica basilica, dell'antico tempio della Santissima Trinità, e mentre uno cammina, guarda questa bella parete, che è appunto affrescata, e poi, attraverso le grate, vedete, guarda le colonne doriche. Dov'è il problema, soprintendente? Ma proprio ci girano le scatole in questo modo a sentire certe cose. Lei applica la normativa, lei applica la legge, lei è in perfetta legittimità, nessuno le sta rimproverando niente, ma bisogna essere aperti mentalmente, elastici mentalmente. Soprintendente, se lei vuole, io la porto a Budapest. Nella città vecchia di Budapest, i murales fanno storia, sono qualcosa che rappresentano un'attrazione turistica, e lei sta a pensare a uno dei murales che sta vicino alle colonne doriche, così bello. Ci sono problemi più seri, soprintendente. E anche l'amministrazione comunale, il neoassessore all'urbanistica, occhi negro, lo invito a essere più incisivo con la soprintendenza, molto più incisivo. Immagino il colpo al cuore che questi ragazzi o chi per loro riceveranno nel momento in cui dovranno oscurare quest'opera d'arte, uno di questi murales, dei tanti murales che ci sono nella città. e pensate al loro impegno gratuito, al loro sacrificio che dovrà essere cancellato, cancellato, cassato, per lasciare che cosa, caro soprintendente? La parete vuota, perché quell'area dove c'è l'affresco, lì c'è quest'opera d'arte, ci sarà la parete vuota, caro soprintendente. Pensiamo alle cose più importanti, soprintendente. E quando vuole ci confrontiamo dialetticamente, io e lei, io amo Taranto e mi auguro che anche lei la ami. Quindi, togliere quest'opera d'arte è un cazzotto in faccia a veramente, in senso metaforico, a chi ha buttato il sangue per amore di Taranto e ha voluto attraverso questo affresco, quest'opera, dare un contributo alla propria città. Ma qui ci atteniamo così, ai peli e ai contropeli. E qui in Via Duomo, qui è interdetto il traffico alle moto, ai veicoli, prego l'operatore di riprendere, qui scorazzano i veicoli e gli autoveicoli. Stiamo andando a pensare a uno dei murales. Soprintendente, il suo approccio è legittimo, ma assolutamente avulso dal contesto di una città aperta. Mediti, soprintendente, mediti!